Il Presidente Gianni nel suo discorso ha detto che Livorno e il suo porto potrebbero diventare un punto di riferimento addirittura internazionale, questo però presuppone la Darsene Europa? Ha proprio ragione, è indubbio che con la Darsene Europa e quindi con un pescaggio che va dai 12,5-13 metri di oggi a sopra i 20 metri Livorno può assumere quel ruolo che gli è naturale, che è il ruolo per cui fu costruita, per cui ha sempre svolto una delle funzioni fra i 3-4 porti italiani più importanti che sostanzialmente comunque esercita ancora. Del resto su Livorno ci sono i più importanti interventi della mia legislatura, ovvero della prossima legislatura, vi è la Darsene Europa, vi è la costruzione del nuovo ospedale, vi è lo scavalco che consente di ricondurre dal porto il collegamento con l'area dell'interporto e poi vi è anche la prospettiva di tutta una serie di semplificazioni dei sistemi stradali e ferroviari. Passiamo invece a Piombino, l'ha incontrato il Ministro dello Sviluppo Economico, come vede il futuro delle acciaierie? Io ho trovato molta concretezza e mi ha fatto un'ottima impressione l'incontro che abbiamo avuto con il Ministro Giorgetti che ha capito come lo Stato nel momento in cui si affida a Piombino per quello che è poi la produzione delle rotaie con i laminatoi, con il forno elettrico che dobbiamo costruire, ha forte interesse. L'importante ora è chiarirsi con i proprietari delle acciaierie per individuare insieme un percorso che questi investimenti che lo Stato e la Regione vogliono fare su Piombino poi siano effettivamente corrisposti da un interesse generale alla valorizzazione e alla ricreazione delle condizioni di Piombino Polo Siderurgico di Interesse Nazionale.